Il candidato che non ti aspetti, espressione della società civile non legato a partiti come invocavano in molti all'interno della coalizione di centrodestra. È l'avvocato Alessandro Baracetti, 50 anni, nato nel capoluogo, sposato e padre di un bimbo di tre anni e mezzo. Sarà lui il principale contendente del candidato di centrosinistra, Franco Ianeselli, per la poltrona più pregiata di Palazzo Thun. Baracetti è un candidato ancora tutto da plasmare, ma sul programma da mettere in campo c'è ancora il cartello lavori in corso. Il programma lo andremo a presentare in seguito, in maniera molto puntuale, molto precisa. Ci sono delle idee di grande rispiro. Ci dica almeno qualcosa alle principali? Glielo dirò quando diventerò sindaco. Baracetti non è più il candidato sindaco di Trento per il centrodestra. La clamorosa notizia del suo ritiro, arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, a Darla lui stesso. Sulla sua pagina Facebook, il senso di responsabilità e l'amore per la nostra città sono state alla base del mio impegno sino ad oggi, si legge nel post. Mirko Bisesti, segretario della Lega, mi riferisce che le condizioni per il ricompattamento del centrodestra autonomista alle prossime elezioni comunali sono mature per garantire il cambiamento alla nostra Trento. Con i valori del centrodestra faccio ora un passo a lato. Baracetti, raggiunto al telefono, ha detto che la sua persona non era più compatibile con il nuovo progetto di coalizione allargata, ma che nessuno gli ha chiesto di andarsene. Ho gettato il cuore oltre all'ostacolo. Ci ha detto, per me l'obiettivo è sempre stato ottenere il miglior risultato possibile per Trento e per il centrodestra che con un candidato unitario è più probabile da raggiungere. Al momento però sembra difficile che chi è uscito dalla coalizione torni sui suoi passi dopo che già sono stati presentati sia i candidati, sia le liste, i partiti a sostegno dei candidati stessi. E intanto parte il nuovo totonome per quanto riguarda il candidato sindaco del centrodestra autonomista dopo il ritiro di Baracetti. In pole position ci sarebbe l'attuale consigliere comunale di opposizione Andrea Merler. Spunta anche il nome di Marcello Carli, anche se questo sembra più difficile da raggiungere per quanto riguarda un accordo delle forze di centrodestra e soprattutto anche il fatto che Carli accetti l'appoggio delle varie liste. Questa è al momento la situazione.